Parco Arele Fontana Il campionato italiano è sicuramente sempre uno degli obiettivi della stagione Chiaramente è una delle gare più importanti della stagione Oggi è un percorso molto veloce, molto insidioso e difficile Abbiamo già visto nelle categorie giovanili Quindi bisognerà stare attenti e correre un po' con la testa Ultima gara di questi campionati italiani di ciclocross a pezze di greco Organizzati dalla AS di Narducci E' quella più attesa, quella riservata alla categoria Elite Vediamo uno dei grandi favoriti alla partenza Marco Aurelio Fontana Favorito assoluto di questa prova che ha già vinto il titolo nazionale per sei volte Un'attenzione particolare anche a Marco Ponta del centro sportivo esercito A Brian Falaschi della Selle Italia Guerciotti A Luca Braidot della forestale ciclio Olimpia Vittoria Tutti in uno splendido periodo di forma Partenza velocissima con subito Marco Ponta del centro sportivo esercito In testa e Luca Braidot in seconda posizione Mentre il pubblico si sta radunando sulla rampa Che caratterizza questo tracciato disegnato dalla grande Vito Di Tano Con tutti i volontari della AS di Narducci Che hanno fatto un grande lavoro per allestire questi campionati italiani Un grande successo di pubblico e un grande successo organizzativo Che ha portato a pezzi di greco i migliori ciclocrossisti d'Italia Ancora in testa Ponta seguito questa volta da Falaschi Fontana e poi tutti gli altri Vedete come il gruppo sia ancora particolarmente numeroso Questo è Marco Aurelio Fontana con il dorsale di gara numero 6 Per riconoscerlo anche più avanti in quanto è uno degli atleti più attesi di questa prova Vediamo come la situazione per il momento sia abbastanza incerta In quanto il gruppo si mantiene pressoché compatto Vedete adesso in testa alla corsa Mirko Tabacchi Della forestale cicli Olimpia Vittoria Con seconda posizione per Marco Aurelio Fontana Che adesso affianca Tabacchi in questo tratto Con continui saliscendi fossi naturali che caratterizzano questo tracciato Ancora Tabacchi in testa Quindi Fontana e via via tutti gli altri Fontana per il momento in seconda posizione Dicevamo che è il corridore più atteso quest'oggi Deve riconfermare il titolo ottenuto lo scorso anno Un'ottima condizione di forma che ha dimostrato anche nell'ultima tappa del Giro d'Italia di ciclocross Quando ha vinto all'ippodromo delle Capannelle a Roma Su Gioele Bertolini Intanto ancora passaggi e la caduta di Riccardo Ridolfi Della PRD Sport Factory Team Che prontamente riprende il via Non sale subito in bici Lo fa adesso Per lui una scivolata In cui ha perso una decina di secondi Ma non sembrano esserci state Conseguenze per l'atleta Della PRD Sport Factory Team Ancora la testa della corsa Con Tabacchi in testa Fontana in seconda posizione Una situazione ancora particolarmente fluida Come vedete da queste immagini Il lotone si mantiene ancora allungato Ma pressoché compatto Nessuno è riuscito a fare la differenza E quindi Tabacchi in testa Fontana in seconda posizione Siamo ormai in vista del tratto con gli ostacoli artificiali E la successiva ascesa Di circa 25 metri Con pendenze notevoli Guardate il grande pubblico Che si è radunato Lungo il tratto in ascesa C'è grande emozione C'è grande passione In questa Trazione Del comune di Fasano Pezze di Greco Grande Tanti gli applausi per I grandi protagonisti della ciclocross Questa è una bella immagine del tratto Dove si è radunato il pubblico Adesso Fontana in testa Siamo al passaggio dagli ostacoli Fontana da inizio il suo show Senza scendere dalla bici E poi affronta anche la salita Senza mettere i piedi a terra Per il momento è l'unico Che è riuscito in questa impresa E si è portato alla comando Quindi Marco Aurelio Fontana Un'esibizione la sua Che ha mandato letteralmente in delirio Il pubblico Che si sta ovviamente scaldando Per lo show di Marco Aurelio Fontana Che adesso si porta in prima posizione Inizia a fare sul serio Come vedete il plotone Non è più compatto Come fino a qualche istante fa In seconda e terza posizione Troviamo Luca Braidot E Brian Falaschi Ma in testa C'è il grande favorito Marco Aurelio Fontana Che adesso Lo vedete anche dalle immagini Sta spingendo con decisione Sta imprimendo un ritmo Davvero importante In questa fase della corsa Braidot secondo Falaschi terzo Queste le posizioni Alla passaggio Di fronte alla nostra telecamera E adesso Diventa davvero fondamentale Questo tratto Perché Fontana Sta imprimendo un ritmo Davvero forzennato In questa prova Che vi ricordo Valida come campionato italiano Per la categoria Elite Specialità di ciclocross Organizzazione a cura Della AS di Narducci Ci troviamo A Pezze di Greco Nel comune di Fasano Ancora Fontana in attesta Braidot Sembra Per il momento Tenere la ruota Di Marco Aurelio Fontana Un po' più in difficoltà Falaschi Adesso vedete con che Nel tentativo Di cercare di rallentare Fontana Braidot Lo supera Proprio prima degli ostacoli In questo modo Anche Fontana È costretto A scendere Dalla bici Non Come aveva fatto In precedenza Ad affrontare Il tratto Con gli ostacoli Il tratto in salita Senza scendere Dal mezzo meccanico Questo però Non è sufficiente Per fermare Marco Aurelio Fontana Che adesso ha fatto il vuoto Adesso è solo alla comando Il Forte atleta Che vedete inquadrato Della Cannon Del Factory Racing Adesso Ha fatto il vuoto Dietro di lui Vediamo Come il plotone Si stia sfilando Adesso ci sono Atleti in solitaria C'è Falaschi In seconda posizione Vi ricordo Che Fontana È stato più volte Campione italiano Nel ciclocross E nella mountain bike Specialità cross country È stato anche Medaglia di bronzo Nella stessa specialità Nei giochi olimpici Di Londra 2012 È stato campione Del mondo Nel team Relay Nel 2013 Bravo comunque Falaschi Che per il momento Si mantiene In seconda posizione Terzo è Luca Braidot Inquadrato adesso Dalle nostre telecamere Della forestale Ciclo Olimpia Vittoria Ma lo show Di Marco Aurelio Fontana Sta entusiasmando Il pubblico Di pezze di greco Che letteralmente È andato in delirio Per Il campione Della cannon Del factory racing Ancora Solo alla comando Ma che sta Imprimendo un ritmo Impossibile Per tutti gli altri Infatti Sta guadagnando Nei confronti Di tutti I diretti avversari Per il titolo Italiano E potrebbe essere Un ulteriore maglia Tricolore Che si aggiunge Alle tante Vinte Da Marco Aurelio Fontana Nel ciclo cross Ormai Alla passaggio Dagli ostacoli artificiali E il punto In cui si è radunato Il grande pubblico Per assistere Alla passaggio Di Marco Aurelio Fontana Che anche questa volta Affronta Gli ostacoli Senza scendere Dalla bici E poi su Nella ripida salita Che riporta Il circuito Verso il Campo sportivo Dove si conclude Il giro Grande show Di Marco Aurelio Fontana Secondo Comunque bravissimo Brian Falaschi Eccolo inquadrato Dalla nostra telecamera Impegnato Nella ripida Ascesa Verso La parte più alta Del percorso Terzo Luca Braidot Prevediamo Cominelli Paccagnella E via via Tutti gli altri Questo è Stefano Capponi Della Drake Team NW Sport Dietro di lui Abbiamo Martino Fruet Della Carraro Team Trentino Queste le prime posizioni Della corsa Riservata alla categoria Elite Che assegna Il titolo Di campione Italiano Nella specialità Della ciclocross Ormai siamo Nelle battute Conclusive Ad un Marco Aurelio Fontana Sempre più solo Al comando Si appresta Ad affrontare Per l'ultima volta Il tratto Con gli ostacoli artificiali E la ripida scesa Verso la parte alta Del percorso E anche questa volta Lo show Di Marco Aurelio Fontana È applaudito Da tantissimo pubblico Senza scendere Dalla bici Marco Aurelio Fontana Ancora una volta Riceve Gli applausi Del pubblico Di pezzi di Greco E sta per fare Ingresso Nel tratto finale Della corsa Nel tratto Interno Al campo sportivo Gli stanno per consegnare La bandiera italiana Perché lui Ancora una volta Il campione D'Italia Ciclocross Per la categoria Elite Marco Aurelio Fontana In seconda posizione Un bravo Brian Falaschi Selle Italia Guerciotti Terzo A completare il podio Luca Braidord Della forestale Marco Aurelio Fontana Marco Aurelio Fontana Ti riconfermi Campione italiano Su un percorso Assolutamente straordinario Un percorso molto veloce Molto battuto Molto tecnico Un percorso difficile Ma sono riuscito a fare La mia gara Ho corso in modo intelligente Ho vinto anche se Non era facile Quindi sono Sono molto soddisfatto Marco sul muro Avevi un tifo indiavolato Sembrava di stare dentro Uno stadio Sì ma come Come puoi vedere Il pubblico Pugliese ha risposto Molto bene Io sono già stato qua L'anno scorso E quindi ho conosciuto Un po' alla gente Del posto Sapevo che Vito Aveva un grande seguito Ma devo dire Che mi hanno stupito Erano veramente Erano veramente Tanti Marco una dedica Per questa maglia Ho due dediche Da fare Una va sicuramente Alla moglie di Vito Che non c'è più E insomma Era una bella Persona che stava di fianco A un grande uomo E l'altra È il mio amico Walter Belli Che in questo momento Sta un po' lottando E gli faccio un forza Walter Vito 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 Il sindaco le è stata consegnata idealmente la maglia di campione italiano e direi che il campione italiano oggi è il comune di Fasano e tutta la Puglia. Io sono soddisfattissimo, devo dire, un evento che resterà sicuramente negli annali della storia sportiva di Fasano, un evento che ha portato qui sul territorio migliaia di persone ed è stato un evento di promozione anche del territorio. Quindi sono molto molto soddisfatto di aver potuto ospitare i campionati italiani qui in questo territorio che turisticamente ormai è baciato da Dio e benedetto dagli uomini. Sul muro nel percorso c'era un'autentica bolgia, la Puglia ha risposto alla grande. Assolutamente sì, il percorso era eccezionale, eccezionali sono stati i partecipanti, eccezionale è stato il pubblico, ripeto, non ho parole, si commentano immagini, commentano da solo quello che questo evento è stato. Antonio Zizi, l'immagine che probabilmente rimarrà di questa giornata era la marea umana sul muro a fare il tifo per Marco Aurelio, per voi un trionfo? Certo, avere un campione qui a Pezzi di Greco per noi è stato molto importante e avere un evento anche per noi così di alti livelli è stato non importante ma ancora di più. Puoi vedere questo palcoscenico, una gente così tanta, entusiasta di quello che abbiamo fatto io penso che è il massimo. Devo ringraziare tutti i volontari che ci hanno dato una mano e che dire, grazie, grazie a tutti, grazie anche a tutti i corridori che ci hanno onorato della loro presenza. Lo stesso Davide Cassani ha detto che questa è stata un'occasione preziosissima per far conoscere questo territorio straordinario a tutta l'Italia. Esatto, esatto, tanta gente ci ha detto che avevano già sentito che questo territorio è molto importante, è molto diffuso il turismo, però tanta gente ancora non era venuta qui, però oggi questi giorni hanno avuto l'opportunità di conoscere il nostro territorio, quindi hanno apprezzato e molti hanno già fatto prenotazioni per il futuro, quindi è una soddisfazione da parte nostra ma anche da tutto il settore turistico che ci ha elogiati anche di questo. Grazie a tutti!